Ma bentornati ragazzi nel canale di Snaffy54 Nel video di oggi vi volevo far vedere una cosa che mi è successa su PES online Una cosa che mi ha lasciato alquanto allibito Profondamente allibito Vabbè la partita inizia tranquillamente, fortunatamente Ma vedremo che cosa succede Vabbè qua prende il primo gol Qua il secondo Il terzo Io già qua sarei incazzatissimo Arriva il quarto Quinto Io avrei rotto già il cd Sesto Adesso rallenterò la clip per farvi vedere che cosa accade al minuto, esattamente al minuto 81 Abbiamo la palla con Carroll, andiamo avanti E mi entra a sacco proprio brutalmente tranciandomi le gambe, lasciandomi lì a terra Noi trattiamo il tiro con Messi Parata E ho detto, pensate vabbè si sarà incazzato finalmente E ci sta anche Ma guardate che cosa fa Passa la pala a sacco Che la passa Franz Che la butta fuori ragazzi, la butta fuori Fair play su PES 2017 ragazzi Fair play su PES 2017 Su console esiste il fair play Allucinante Cioè ragazzi io voglio conoscere questa persona È una cosa che non si vedrà ma che io non vedrò mai più nella mia vita penso Questo ragazzo praticamente ha fermato il gioco per far soccorrere il mio giocatore Per far soccorrere l'avversario in un videogioco Allucinante ragazzi Stava perdendo 6 a 0 6 a 0 Ragazzi se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciarmi un like Di commentarmi questo video allucinante Che non si ripeterà mai più penso E per i nuovi iscrivetevi al canale cliccando direttamente il logo che vedete nel video E io vi saluto e vi mando un grosso abbraccio ragazzi Ciao